La procura di Agrigento con l'aggiunto Salvatore Vella e il pool di sostituti composto da Antonella Pandolfi, Paola Veto e Sara Varazzi hanno chiesto al GIP il rinvio a giudizio di 47 indagati nell'ambito dell'operazione Baterlo della DIA, Guardia di Finanza e Carabinieri, e che sostiene come professionisti, politici, istituzioni e forze dell'ordine fossero, secondo l'accusa, asserviti a Girgenti Acque, la società che si occupava della gestione del servizio idrico nell'Agrigentino, in cambio di favori e posti di lavoro per familiari, amici e amanti. Il pool di PM non arretra rispetto all'impostazione originaria che ha portato sette mesi fa ai fermi di otto persone, fermi che però non superarono il baglio di GIP e Tribunale del Riesame che rimise tutti libertà. L'inchiesta a Vaterlo ruota attorno alla figura dell'imprenditore Marco Campione, ex presidente Dominus di Girgenti Acque, al quale si contesta di avere messo in piedi un sistema di corruzione a tutti i livelli. Oltre al sessantenne imprenditore titolare di una catena di aziende che operano nel commercio di diversi settori, erano finiti in carcere altri sette collaboratori. Nella lista dei 47 indagati a cui è stato notificato l'avviso di fine inchiesta, ci sono i vertici di Girgenti Acque, prima del commissariamento avvenuto nel novembre del 2018, politici, professionisti, forze dell'ordine, l'ex prefetto Nicola Diomede, accusato di avere salvato Girgenti Acque da un'interdittiva antimafia, e il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, al quale si contesta l'accusa di finanziamento illecito al partito. Fra i reati contestati l'associazione delinquere e il concorso esterno, l'abuso d'ufficio e la truffa. Sotto inchiesta anche Giovanni Pitruzzella, avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al quale si contesta il concorso esterno in associazione delinquere.